Focus! Nella seduta del 17 maggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza non partecipazione al voto del centro-sinistra e voto contrario del Movimento 5 Stelle il bilancio di previsione 2012 e pluriennale dal 2012 al 2014. Il documento pareggia su 16,7 miliardi di euro in termini di competenza e 17,2 in termini di cassa. Il complesso ITER del provvedimento che soffre di minori trasferimenti statali per 445 milioni è stato modificato in aula con emendamenti frutto di accordi politici tra l'esecutivo e gruppi di maggioranza e opposizione. I fondi disponibili per la sanità e le politiche sociali rimangono sostanzialmente invariati come gli stanziamenti per la competitività del sistema economico.